Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi è arrivato uno dei momenti più attesi di questo canale visto quanti messaggi mi avete scritto e non lo dico del tipo me l'avete chiesto in tantissimi no, veramente me l'avete chiesto in tanti perché insomma non c'è due senza tre e quindi siamo qui a parlare della memoria di Babel, ovvero il terzo capitolo della saga dell'attraverso a specchi di Christelle Dabeau e c'ho un sacco di roba da dire, detto ciò, visto che è un po' che non lo dico penso sia il momento di farlo piccole premesse prima di iniziare la mia recensione che ovviamente sarà piena di spoiler rispetto almeno ai due precedenti e in questo caso anche rispetto a quello ma ve lo segnalerò quando ci saranno cose spoiler quindi se non l'avete ancora fatto ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanellina perché non sempre YouTube vi fa vedere i miei video nella sezione delle iscrizioni perché YouTube fondamentalmente non è simpatico e soprattutto se non l'avete mai fatto e volete supportare il canale perché evidentemente quello che porto qua ai miei sproloqui vi interessano, vi piacciono, vi divertono, vi intrattengono potete farlo o attraverso il link di Ko-fi offrendomi un caffè virtuale oppure utilizzando i miei link di affiliazione ad Amazon per fare i vostri acquisti insomma quindi niente, direi che a parte queste piccole premesse è ora di andare come si parla di questo libro? allora innanzitutto noi qua arriviamo da una situazione molto molto sconvolgente cioè quello che era successo in Scomparsi di Chiardiluna in questo caso assistiamo a un libro molto diverso dai precedenti due e commento a caldo, questo è il libro che a me è piaciuto di meno tra tutti e tre e tanto di meno rispetto agli altri due perché forse mai come, questo è un discorso generale ovviamente quello che faccio è una premessa secondo me molto importante per capire perché a me alcune cose non hanno convinto di questo terzo volume questo volume proprio più di tutti gli altri che già comunque avevano questo intento molto chiaro rende ancora più palese quanto questa saga abbia bisogno di essere letta nella sua completezza quindi riuscire a comprendere il messaggio tutto il simbolismo della storia, degli elementi, delle scelte eccetera in una saga come questa che non è qualcosa di lineare non è molto allegorica, molto carica, molto ricca non è mai stato così palese cioè che già lo era secondo me nei precedenti due ma mai così forte questa sensazione come dopo la lettura della memoria di Babel nel senso che davvero io ora che l'ho finito mi sento in quella fase dove fondamentalmente aver letto il terzo ma non il quarto ti lascia molto con l'amaro in bocca più che rispetto agli altri due gli altri due comunque ti lasciavano anche un certo tipo di eccitazione di voglia di arrivare al prossimo per conoscere questo in realtà mi ha lasciato più frustrata rispetto agli altri due che non è una sensazione bellissima secondo me alla fine della lettura e leggendo un po' anche le varie recensioni perché mi sentivo molto sola nelle mie sensazioni in realtà non è così per fortuna poi non è che cambia qualcosa se sono da sola a pensare certe cose ho visto che è forse il libro più amato ma anche quello che ha convinto meno tante persone e secondo me un po' è quello o questo libro viene adorato o a mio parere o almeno per come la vedo io proprio è quello che un po' ti lascia ok e è molto transitorio rispetto ai primi due c'è qualcosa che comunque non lo so però come tutte le mie recensioni direi di partire da tutti gli aspetti positivi e poi andiamo diretti a quelli negativi per chi non ha letto i primi due libri chiaramente è inutile che stia qua sopra chi ha letto solo il primo chiaramente è nelle stesse condizioni di chi non ha letto la serie perché sarà pieno di spoiler in ogni caso cercherò sempre di segnalare quando ciò che sto per dire è comunque spoiler quindi questa recensione per la maggior parte la potete ascoltare pur non avendo letto la memoria di Babel ma alcune cose saranno palesemente spoiler ripeto ve lo segnalo così andate a casa tranquilli ora ovviamente lo appoggio perché è un discreto libro comunque per quanto scritto grosso è enorme e pesa cosa è successo alla fine dell'attraversa specchi un sacco di rivelazioni ci hanno svelato ovviamente come Dio sia tenendo d'occhio la coppia di Thorne e Ophelia Ophelia e in questo caso viene separata forzatamente da Thorne e noi iniziamo la memoria di Babel con un fatto secondo me molto coraggioso non usuale e che a me personalmente ha colpito molto in positivo ovvero la vicenda della memoria di Babel inizia due anni e sette mesi dopo la fine dell'attraversa specchi che secondo me è un espediente corretto un espediente sorprendente non perché sia assurdo come cosa però tendenzialmente si fa molto poco ultimamente nelle saghe per ragazzi perché secondo me è un espediente che si utilizza molto poco perché fondamentalmente sempre l'arco narrativo di tutte le storie si esaurisce nel giro di pochi anni, poco tempo, pochi mesi mentre invece di latarlo così nel tempo ci dà tanti punti in sospeso e quindi questo all'inizio mi ha colpito molto positivamente noi siamo due anni e sette mesi dopo le vicende dell'attraversa specchi Thorne e Ophelia non si vedono e non si sentono da quel momento in cui si sono dovuti separare per riuscire a sfuggire a Dio e per non riuscire ad essere tormentati dalla sua presenza che in qualche modo vuole chiaramente eliminare una figura come quella di Thorne perché sa che Ophelia e Thorne stanno cercando la verità e stanno cercando il modo in cui cercare di arginarlo soprattutto grazie alla conoscenza che ancora non hanno ma che stanno cercando sul perché queste arche hanno iniziato a separarsi a distruggersi Ophelia non sente Thorne da diverso tempo è tornata su anima insieme alla sua famiglia ma non sta trascorrendo questo periodo in maniera diciamo piacevole anzi è parecchio depressa probabilmente non fa nulla assolutamente anche se tutti la spingono verso qualcosa ma è attorniata da una serie di figure che la mettono molto a disagio che ricercano in lei diverse cose e a un certo punto viene liberata da il nostro carissimo Archibald e finisce insieme a lui torna su Polo ma per un brevissimo periodo perché Ophelia lascerà Polo per andare proprio su Babel che è un'altra arca dove lei è certa che troverà alcune risposte alle sue domande su questa arca esiste questa scuola di raccolta di informazioni enorme di schedatura di informazioni che permetterà proprio ad Ophelia di recepire quello che lei sta cercando ecco e Ophelia infatti cercherà proprio di diventare un'allieva di questa scuola per accedere a un'area molto molto esclusiva dove pochissimi all'interno dell'istituto possono accedere per trovare le informazioni che le servono questo è il contesto non vado oltre perché chiaramente tutto è spoiler e anche già questo fondamentalmente è spoiler perché sappiamo che nella saga dell'attraverso a specchi tutte le piccole cose già tutti i meccanismi che si mettono in moto sono tutti molto sorprendenti danno davvero molta dinamicità al movimento della trama e in questo caso questo cambio di setting sposta davvero molto violentemente probabilmente il tipo di narrazione che effettua la Dabo partiamo però dagli aspetti positivi cioè quelli che a me sono piaciuti che vi premetto non sono tanti ma partiamo forse dall'aspetto che conferma secondo me la cosa più positiva di questa saga proprio penso sia il punto più a favore dell'attraverso a specchi la memoria di Babel è l'ennesimo libro all'interno di questa quadrilogia che si fa mangiare praticamente questo è un libro che divori tutto ciò che scrive la Dabo è veramente qualcosa che ti viene voglia di fagocitare in pochissime ore una volta iniziato davvero ci metti pochissimo tempo a essere trascinato dentro a volerlo finire e a sapere davvero come va a finire il volume la Dabo ha questa capacità quasi ipnotica magica di scrivere una storia che per quanto possa avere dei difetti e tutto rimane qualcosa che ti tiene incollata alle pagine e per me è un grande pregio perché non tutti sono in grado di avere questo tipo di scrittura la Dabo secondo me ha davvero qualcosa di magico perché riesce a tenerti incollata alle pagine ed è molto brava nel tessere una trama che ha momenti di tensione molto trascinanti e ha queste trame sotto trame dal sapore così allegorico che ti viene voglia di cercare delle risposte di sapere cosa succederà di sapere che cosa significano soprattutto e nonostante tutto mantiene un ritmo sempre molto serrato quindi non ci sono mai nonostante dopo vedremo alcune cose che a me non hanno convinto non ci sono mai momenti in cui la trama è troppo stagnante è troppo anacquata ci sono momenti che non sono mai riempitivi è tutto tutto funzionale forse ha qualcosa che scopriremo mai probabilmente perché cambierai idea manderà tutto in vacca e dirà vabbè vi ho fregato per tre libri non lo so l'altro aspetto positivo è sicuramente la nuova ambientazione che secondo me è il punto più positivo e più negativo di questo libro dopo vi parlerò dell'aspetto negativo ma questo cambio di ambientazione questo arrivo su una nuova arca e un'arca proprio come quella di Babel ci dà la possibilità di espandere in maniera molto consistente molto ricca molto più multidimensionale il mondo che già conoscevamo della Dabo che secondo me ha tanti pregi nel creare tensione nel creare proprio questo questo build up si direbbe in inglese questo costruire insomma sempre finché non ti proprio ti scava dentro dal punto di vista emotivo non è forse brillantissima nel descrivere il world building nel senso che dà una serie di spunti che alla fine molto diversamente magari da quel tipo di romanzo sul modello gioco di ruolo ecco dove tutto è codificato tutto è molto molto reciso eccetera ti dà modo di muoverti all'interno del mondo la Dabo fa esattamente il contrario ti dà talmente pochi elementi e su quelli tu devi basarti totalmente ti affascinano ma sai che ne sai troppo poco perché fondamentalmente tu hai una visione molto ristretta grazie ai pochissimi elementi che la Dabo fino a quel momento ti ha dato che secondo me è uno dei due estremi che secondo me funzionano perché le cose peggiori secondo me stanno nel mezzo cioè quei mondi che sono si impostati ma poi male che si contraddicono ecco la Dabo ti lascia piuttosto nel dubbio rispetto a darti tutti 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 gli elementi ecco sono i due estremi che secondo me funzionano meglio nella panorama fantastico quello che è in mezzo non funziona in questo caso la Dabo però ci fa vedere Babel in maniera molto più consistente con una serie di dettagli ed elementi che ad esempio nemmeno di po lo abbiamo avuto infatti Babel ci dà la possibilità di toccare con mano un'atmosfera molto più concreta rispetto ai volumi precedenti molto più dettagliata e che impariamo a conoscere in tanti aspetti non solo in quel poco che c'era stato magari fatto vedere su Polo ecco riusciamo infatti proprio grazie alla trama ad esplorare questa nuova arca ad esplorare questo mondo a vederne tantissimi aspetti ad assistere ad una moltitudine di differenze sia culturale che etnica proprio a vedere una società molto più complessa con anche delle contraddizioni molto forti che saranno anche parte dell'attenzione del romanzo e grazie proprio sia alla trama che a questa complessità nella costruzione di questa arca ci danno la possibilità di imparare un po' di più sul come sono fatte le arche sulla loro storia e sulla loro diversità ecco che è molto netta in questo caso capiamo anche la storia dell'origine di quest'arca dell'origine della propria società come si è venuta a creare qual è il conflitto sociale che la governa e vediamo una differenza molto netta intanto ci avviciniamo anche all'origine della storia di quest'arca e ci avviciniamo sempre di più al mistero e al fulcro del mistero che noi stiamo cercando di svelare insieme ad Ophelia insomma il più grande mistero rimane proprio l'origine delle arche di questa rottura che si è creata nel mondo e anche alla figura di Dio o almeno così sembra ma tanto io ormai mi aspetto di tutto e poi vi stupirò con grandi effetti speciali state per sentire questa frase proprio da queste labbra ovvero l'unico personaggio che a me è piaciuto è piaciuto con tanti è Thorne e è tutto vero lo ammetto ragazzi è successo faccio mea culpa ma io trovo Thorne il personaggio più coerente dell'intero universo della Dabou coerente e reale nel senso che Thorne è fondamentalmente un personaggio molto disprezzabile è un personaggio freddo quasi anaffettivo che ha dei grossissimi problemi nel comunicare questo era chiaro dal primo volume e che quindi fatica nell'instaurazione di una relazione di qualsiasi tipo con chiunque ecco Thorne o è così o non è Thorne cioè insomma o lo pigli così o non puoi costruirlo in un altro modo ecco Thorne si comporta esattamente come dall'inizio del romanzo come dall'inizio della serie e questo ci permette di individuare in lui un carattere molto delineato ecco che è perennemente disprezzabile anzi è un personaggio molto poco amabile però almeno è un personaggio che anche in questo libro non si comporta in una maniera tranne è spoiler ma ne parliamo dopo tranne in un certo momento comunque è un personaggio lineare e coerente che ci dà almeno la certezza del suo carattere del suo personaggio e questo secondo me per il lettore è qualcosa su cui far affidamento ecco parlando di punti di vista positivi io penso di aver finito cose positive sono state queste per me direi di passare agli aspetti negativi finora credo di non aver fatto spoiler ovviamente dopo non lo so cioè ci penso bene ogni volta che devo dirvi delle cose allora il primo e più grande forse aspetto negativo no più grande forse no perché ci sono cose che mi hanno dato più fastidio però un elemento che secondo me è fortemente negativo è l'evoluzione della trama qua credo di essere in minoranza assoluta però secondo me la trama in questo volume ha dei problemi gravissimi è vero che da un lato leggiamo un world building molto più ampio molto più stratificato e molto più complesso rispetto ai due volumi precedenti e che abbiamo un'espansione molto molto più profonda questo però crea un qualcosa che a me non ha completamente soddisfatto ovvero per espandere il world building e per costruire una nuova arca dove poterci muovere la trama rallenta bruscamente la trama diventa molto più statica ovviamente a mio parere e in più l'espediente della trama noi ci troviamo in una scuola e questa cosa al di là dell'essere una dinamica che porta e trascina con sé una serie di dinamiche sottodinamiche ok capite insomma il fatto di ambientare una storia in una scuola crea delle conseguenze per il lettore cioè l'ambiente scolastico è un espediente non tanto originale come invece erano stati secondo me i due volumi precedenti e quindi ci troviamo ad affrontare ad essere costretti ad inserirci in questa visione della trama in questa scelta molto forzata a mio parere che siamo costretti a compiere grazie a questa scuola di Babel e quindi ci inseriamo in una serie di dinamiche che a me personalmente hanno un po' non dico stufato perché stufato no però secondo me in questa saga io non me lo sarei aspettato soprattutto perché è una saga che invece ha sempre vissuto sulla dinamicità la scuola essendo circoscritta ti tiene fermo lì ti tiene anche su delle dinamiche cazzo scusatemi e non parlare di spoiler per parlare di questa storia è impossibile quindi allora perché poi ripeto sempre le stesse cose i meccanismi della scuola sono quelli che noi già conosciamo da altre 200.000 saghe ci sono le faide interne ci sono i segreti non segreti cose detto non fa eh personalmente non l'ho apprezzato perché la cosa che a me più piaceva della saga della Traversa Specchi era l'imprevedibilità il fatto di essere sempre in movimento il fatto di riuscire a filarsi in situazioni inaspettate nel conoscere personaggi molto più inaspettati qua invece è tutto più prevedibile per quanto non possa essere prevedibile tutta questa narrazione cioè la scuola purtroppo ci costringe essendo comunque in questo ambiente dove lei tra l'altro si pone l'obiettivo di arrivare ad accedere delle informazioni classificate super top secret praticamente quindi ha questo viaggio lento 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 dove lei deve rimanere lì e proprio come sta ferma Ophelia ed è costretta a stare lì lo siamo anche noi se volete vi dico che mi è piaciuto ma non è così cioè diciamo che per me manca a questo punto in questo terzo libro l'estrema dinamicità alla quale la Daboccia aveva abituato nei due volumi precedenti e quindi anche un po' di originalità perché comunque sono dinamiche che noi abbiamo già visto noi un po' più conosciamo siamo un po' più familiari con questo tipo di narrazione e mi è mancata proprio l'elemento che secondo me contraddistingue la Daboccia da tutti gli altri autori ovvero l'estrema originalità cioè ce l'ho fatta a non fare spoiler fino adesso è incredibile è incredibile allora passiamo poi alla cosa che vabbè io poi ci avrò sto pallino che a me lei sta sulle balle io capisco tutto brava ragazza però Ophelia è un disastro totale in sto libro per me è un personaggio terribile in questo terzo poi è se l'avevo un po' apprezzata nel secondo perché vedevo questa sorta di evoluzione piccoli passi un po' in avanti questo libro è irriconoscibile non ha assolutamente alcun tipo di senso il personaggio di Ophelia a mio parere so che molti potrebbero pensare che in realtà ha avuto questa grande evoluzione per me è di un'incoerenza pazzesca allora nella prima metà Ophelia sembra fatta di steroidi perché non si sa per quale motivo era depressa fino al giorno prima arriva su Babel parte in quarta avendo acquistato una sicurezza incredibile tra l'altro lei arriva su Babel da sola questo forse è un po' spoiler però insomma non cambia molto lei non ha mai in realtà affrontato alcun tipo di situazione da sola né su Arca né su Anima perché su Anima comunque aveva sempre l'appoggio dello zio mentre su Arca aveva l'appoggio di Zia Rosaline di Archibald anche se poi non è che si poteva fidare di tutti però insomma Zia Rosaline chiaramente patto di sangue Archibald comunque secondo me a lei è molto affezionato e ha imparato ad affezionarsi a lei poi c'è stato Thorne che comunque nel secondo libro si è avvicinato a lei spiegabilmente però insomma e anche con l'aiuto di altri personaggi più secondari ecco che in qualche modo l'hanno presa in simpatia perché anch'essi molto diciamo oppressi dal tipo di società di Polo in questo caso Ophelia arriva completamente da sola su Babel dopo aver passato anni di depressione praticamente da quanto c'è stato raccontato e non che una persona depressa poi non possa trovare così anzi di solito quella si chiama fase maniacale quando uno è bipolare però vabbè quello sono considerazioni mie che devono avere anche la giusta delicatezza nell'essere trattate e non è giusto inserirle qua dentro quindi perché sto blatterando su queste cose comunque allora Ophelia ha passato due anni in totale depressione arriva su Babel e affronta da sola una situazione praticamente impossibile da affrontare da sola soprattutto contando che è lei che lei non ha mai fatto nulla in autonomia cioè arriva carica come una mitraglietta con piani folli in testa e prende e parte cioè diciamo che sicuramente Ophelia prima o poi avrebbe dovuto fare qualcosa da sola ecco però diciamo che ci sono livelli graduali di autonomia ecco non è che parti con il salvare il mondo e trovare la soluzione al più grande mistero che lo governa perché se tu non hai mai fatto qualcosa in autonomia io non ci vedo un personaggio come Ophelia a risolvere una situazione così complessa così difficile che probabilmente anche il personaggio più sgamato della storia sgamato in italiano penso sia più intraprendente della storia potrebbe risolvere è una questione difficilissima e lei sembra pazza lei sembra completamente sotto effetto di sostanze simpatiche prende e va è molto incoerente a mio parere arriva prende e inizia a muoversi in questo mondo ripetendosi continuamente sono sopravvissuta Apollo questo non è niente e sì da un lato è anche vero ma Apollo non è sopravvissuta da sola può sopportare tranquillamente magari le angherie lo scherno i trucchetti insomma i colpi bassi che le infliggono insomma gli altri personaggi presenti su Babel ovviamente prendendola di mira innanzitutto il suo potere è qualcosa su cui lei può fare molto poco affidamento e in questo libro è in maniera molto molto amplificata probabilmente e soprattutto non la trovo coerente dopodiché la cosa secondo me proprio che mi ha fatto mettere una X gigante su Ophelia è che nella seconda metà del libro questo probabilmente spoiler quindi se non volete lo spoiler saltate a fra un pochino metterò un effetto che vi dirà che è finito lo spoiler allora nella seconda metà del libro ovvero quando arriva Thorne da quel momento in poi Ophelia non capisce più niente cioè se per quanto fosse sotto effetto di steroidi comunque aveva un piano assurdo ma aveva un piano da quando arriva Thorne lei non capisce più un cazzo cioè è veramente a me ha fatto sclerare perché mi è sembrato un'involuzione così grave del personaggio che proprio mi ha mi ha fatto venire molta rabbia Ophelia arriva Thorne torna lui lo vede da quel momento in poi va in banana totale non capisce più niente non si capisce nemmeno se abbia chiaro il suo obiettivo ed è diventata automaticamente una ragazzina di 12 anni innamorata con le visioni che pensa solamente Mentathorn è frustrante da morire cioè appena lei vede lui proprio da lì fine di tutto encefalogramma piatto neuroni non riconosciuti fine dello spoiler allora ok è finito lo spoiler su Ophelia comunque insomma avrete capito che non ci siamo allora e altra cosa che vi avevo già accennato prima ovvero una cosa che inizialmente io avevo apprezzato molto ovvero che tra il secondo e il terzo libro c'è uno stacco di due anni e mezzo due anni e passa cosa che secondo me è molto coraggioso e molto originale originale nel senso che non è che è la prima che lo fa però sicuramente non è consueto e quindi secondo me crea già questo forte insomma impatto sul lettore il problema è che nel corso di questi due anni e mezzo noi scopriamo che Ophelia si è innamorata perdutamente di Thorne l'ossessione che la governa è incomprensibile a mio parere perché a noi non viene data la possibilità di vedere questo avvicinamento quasi morboso oserei dire sarò cattiva però per me lo è cioè noi di quei due anni abbiamo una sensazione di vuoto sappiamo che Ophelia si è depressa ed è stata molto ferma molto statica una volta tornata su Anima non ha combinato nulla ha continuato a pensare a Thorne perché era preoccupata per lui ma per me poteva finire lì invece si è innamorata ed è diventata scema cioè più scema poi vabbè appena lo rivede cioè per me tocca dell'epicità di deficienza mai vista inaudite scusatemi sono molto cattiva nei suoi confronti però veramente cioè l'avevo apprezzata nel secondo porca miseria Ophelia cioè noi praticamente scopriamo che lei è persa di Thorne ma non abbiamo elementi per capirlo cioè non c'è nulla che ce lo contestualizzi che ce lo spieghi zero noi lo sappiamo e da lettore il fatto di dover dare tutte queste cose per assunto secondo me non funziona anzi poi vabbè io ho un grosso problema con la relazione tra Thorne e Ophelia ma questo me la rende ancora più detestabile perché non la trovo giustificabile in nessun modo cioè il fatto che Ophelia si innamori di Thorne che non le parla scrive non la vede da due anni per me è inconcepibile cioè proprio rabbia 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 questa cosa secondo me è un difetto enorme di questo volume che lo rende poco credibile cioè a meno che poi non si sappia alla fine del quarto che Ophelia è stata ricoverata in una clinica psichiatrica e che si è appena risvegliata tutto ciò che abbiamo letto fino ad ora secondo me non è giustificabile altro punto molto negativo secondo me ma questo non sarà una sorpresa sono i personaggi secondari la Dabo già non è in grado di scrivere dei personaggi principali perché la caratterizzazione è un'altra cosa comunque possiamo esserci affezionati a Ophelia non lo so io un pochino l'avevo dato pat pat sulla spalla nel secondo io ora la metterei in ginocchio sui ceci in un angolo a scontare tutte le sue penitenze detto ciò i personaggi secondari anche di questo secondo libro che sono tanti in realtà sia su Babel ma anche di quelli che già conoscevamo sono il punto forse più negativo di tutta la scrittura della Dabo ecco forse non so se è il più negativo ma sicuramente è un punto negativo perché la Dabo crea tutte queste faccette queste macchiette queste comparse ecco che dovrebbero avere un senso ma non ce l'hanno sono tutte continuamente funzionali non mi voglio ripetere perché sono gli stessi errori che avevo già espresso per i primi due e in questo caso assistiamo un pantheon sempre più grande di personaggi che tra l'altro non so che fascino possa avere Ophelia nei loro confronti si sentono quasi in dovere di assecondarla di aiutarla eccetera non ha senso cioè sono completamente carenti di caratterizzazione oltre che molto funzionale la storia è molto facile anche che la aiutino senza motivo e questo dà modo alla trama di andare avanti dà modo a Ophelia di sbloccare tipo i livelli come se fosse in un videogioco ma non è credibile allora poi voi lo sapete già ve l'ho anche già appena detto che per me la relazione tra Ophelia e Thorne è no cioè è un grosso gigante no in questo tocchiamo dei livelli proprio altissimi di no 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 cioè ripeto non è possibile che si sia creata questa relazione immotivata e cioè non è giustificabile sotto nessun aspetto non so quale siano le spinte che il lettore dovrebbe cercare di intuire da questa distanza che ha portato Ophelia a essere innamorata perdutamente di Thorne che si può essere preoccupata può esserci si affezionata lo trovo corretto ma non è innamorata perdutamente cioè Ophelia va completamente in banana per questa cosa non è giustificabile poi adesso devo fare una parte spoiler quindi se non l'avete letto saltateci rivediamo per le considerazioni finali e ascoltatele perché comunque ci sono cose secondo me che vanno un attimo discusse insieme però ora vado spoiler allora io comunque raga mi lamento della mass però la scena finale della memoria di Babel è di un trash da farti accapponare la pelle adesso so che fanservice saranno tutti l'imbrodo di giugere io non riesco a capire per quale motivo ma allora cioè se non è trash questo ingiustificato senza motivo fuori dal contesto dei personaggi proprio tutto male tutto male cioè questi due ciulano e si spacca l'arca cioè quanto è trash poi io mi lamento delle montagne che tremano cioè in questo caso Sarah J. Maas scusami scusami non volevo non ce l'ho con te cioè sei molto più sobria ed è tutto un dire cioè questo è puro fanservice brutto insensato e che secondo me non crea nulla ai fini della trama quindi ora mi sono sfogata e possiamo tornare non spoiler eccoci e niente vi dicevo che secondo me anche gli elementi della relazione sono sempre peggio ok penso di avere messo in luce più o meno tutto ciò che io ho pensato di questo terzo volume però ci tengo nuovamente a fare un po' il discorso che vi facevo all'inizio questa è una saga che a me personalmente sta in realtà piacendo moltissimo perché trovo che la Dabbo abbia una voce unica e molto originale nel panorama del romanzo per ragazzi credo sia la Traversa Specchi una delle saghe più originali che esistano attualmente sul mercato e che io continuerò a consigliare a chiunque perché questo è un libro che ti rapisce questo è proprio una serie che libro dopo libro ti trascina dentro proprio come se fossimo dentro insomma la tana del coniglio e questa cosa secondo me è perfettamente apprezzabile da chiunque anzi può non piacere il libro singolo posso non piacere i personaggi i difetti non mancheranno mai detto ciò però io continuo a considerarla estremamente godibile trascinante e chiaramente qualcosa che ti appassiona ti rende estremamente appassionato della saga detto ciò discorso iniziale che io facevo sulla diciamo sul doverli vedere sempre in prospettiva i libri singoli è qualcosa che assume davvero moltissima forza in questo libro cioè l'attraverso a specchi ha talmente tanti elementi allegorici talmente tanto simbolismo all'interno della propria narrazione che nulla è ciò che sembra quindi alla fine di questo terzo libro io continuo a non avere chiaro quale sia il vero messaggio dietro tutta la serie perché si parla molto del divino e degli errori del divino e anche di quanto possa essere cattivo dio e inizialmente ero certa che questo fosse il tema cioè il contrasto col divino e la caduta delle certezze che si hanno diciamo nella fede cieca e pura nella divinità ma continuo a metterlo in discussione continuo a non essere certa che questo sia il messaggio fondamentale sicuramente c'è anche un percorso di crescita e di consapevolezza del personaggio soprattutto di Ophelia ma io non sono del tutto certa che sia così palese il messaggio cioè io continuo a non avere chiaro dove ci voglia portare la Daboh questa cosa mi intriga tantissimo è questo il motivo per cui io rimango così attaccata a questi libri perché anche dopo aver letto il terzo io continuo a non saperlo e quindi questo rende più che necessario il quarto perché solo vedendoli tutti insieme si può avere un quadro completo e riuscire a capire nella sua interezza nella sua completezza che cosa ci voleva dire la Daboh probabilmente anche il messaggio di fondo e tutti i sottotemi si chiariranno nel quarto e questo lo rende proprio una lettura necessaria ecco per me questo terzo volume è una grossa delusione ma forse perché mi allontana ancora di più dallo svelare ciò che io invece sto inseguendo ciò che io cerco per me questo è l'aspetto che proprio trovo più affascinante di tutta la serie della Traversa Specchi ed è il motivo per cui io appena esce il libro due giorni dopo l'ho già finito perché ne ho bisogno perché secondo me è uno degli aspetti più potenti di cui è armata la Dabot e trovo questa cosa molto originale molto potente e unica e quindi è per questo che io continuerò a consigliarvelo nonostante gli alti e bassi nonostante i difetti però la scrittura della Dabot è talmente trascinante talmente evocativa per alcune cose e anche molto cioè riesce a costruire questa tensione dentro il lettore che ti fa dimenticare tutti gli altri elementi che alla fine ti interessano molto poco perché tu vuoi arrivare alla verità tu vuoi arrivare a svelare questo mistero e questo mistero lo potremmo svelare solo alla fine del quarto ecco e quindi niente io spero di avervi detto più o meno tutto mi raccomando fatemi sapere se l'avete letto cosa ne pensate giù nei commenti o se avete intenzione di leggerlo o di aspettare il quarto insomma fatemi sapere io di nuovo ve la consiglio tantissimo perché è una serie che a mio parere merita molto nonostante ripeto gli alti e i bassi e quindi niente direi che per oggi è tutto spero di essere stata esaustiva e direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao